Vi leggiamo una lettera scritta da Rosalinda per la sorella Roberta che oggi avrebbe compiuto 40 anni. Cara Roberta, avresti compiuto 40 anni, l'età della piena maturità. Ma tu, matura, se nata, lo eri già da prima. Prima che Manu crudele, folle, desse corpo alla propria crudele follia. Sai, ho capito che la gente ama le opinioni già pronte, i dettagli abituali. Per questo non voglio parlare di ciò che è abituale, di ciò che la gente si aspetterebbe io dicessi. Non credo che il destino entri nella nostra vita attraverso un passaggio che noi stessi li apriamo. A volte ti sorprende alle spalle e non ti dà neanche il tempo di accorgertene. Usa il suo stiletto, ti pugnala e dopo rimane a tenerti compagnia. Vi sono cose che sono state ed è già tanto che siano state. Ma ogni cosa che è stata continuerà ad essere, per altre forme, per altre vie. Sarebbe davvero peggio se le cose non fossero state, poiché non sarebbero neanche adesso, benché non siano più per come le abbiamo conosciute. Roberta, sorella mia, con queste parole volutamente affidate ad un linguaggio poco convenzionale, proprio per evitare la retorica dei dettagli abituali, voglio dire questo. Il destino ci ha sorpreso alle spalle ed ha agito per conto proprio, sorprendendoci. Ma il fatto che tu sia esistita, che tu esista sotto altre forme, le forme dell'amore e del ricordo, è e sarà sempre un dono, un regalo divino, che noi custodiremo nel cuore come il più profondo dei segreti inviolabili. Tu ci sei ancora, Roberta. Buon compleanno. Buon compleanno.